Sono Roberta, sono entrata in polizia locale nel 2015 e da circa tre anni lavoro in centrale operativa, una delle attività principali della polizia locale. Da qui abbiamo il controllo della città 24 ore su 24 e il ruolo fondamentale dell'operatore radio è quello di prestare supporto ai colleghi strada, coordinare l'attività delle pattuglie in base anche alle richieste di intervento che arrivano dai cittadini, avvalendoci anche del sistema fondamentale di videosorveglianza presente su tutta la città. Abbiamo degli interventi molto delicati da gestire saltariamente, possono essere degli incidenti gravi, delle manifestazioni e cortei che ricadono sulla viabilità ordinaria, fornire delle risposte concrete alle richieste che arrivano dai cittadini. Da qui cerchiamo di essere ovunque, i nostri occhi vedono quello che da vicino potrebbe sfuggire, i cittadini non sempre ci vedono ma noi ci siamo. La centrale operativa non chiude mai, a volte può essere un lavoro stressante in quanto sono richiesti sempre concentrazione e reattività anche e soprattutto alle emergenze ed è proprio per questo che è fondamentale la collaborazione con i propri superiori e con i colleghi, sia quelli all'interno della stessa centrale che quelli in strada. Ogni giorno qui è diverso e non c'è mai da annoiarsi, inoltre poter lavorare su turni sicuramente un punto a favore per la conciliazione lavoro-famiglia. Se potessi tornare indietro sicuramente rifarei il concorso per entrare in Polizia Locale.